Ha un'azione potenzialmente pericolosa come questa, sfugge il pallone a Boni, Minelli, limite dell'area di rigore, Minelli cerca nella conclusione, che gol, che gol di Minelli, sono tre in questo Biareggio Cup, Fiorentina avanti, 1-0, ha segnato ancora lui, Minelli. E dalla panchina Guidi dice, eccolo, eccolo, è arrivato Minelli, dopo l'ammunizione è arrivato anche il gol di Minelli, avete visto come sa giocare questo ragazzino, ricordiamolo, 1,66m, insomma, il calcio tecnico sta tornando in Italia, qui chiamo un causa pane, insomma, si ritorna a puntare sui piedi buoni. E' stato bravissimo, è stato bravissimo a sfruttare un errore difensivo di Rossi nel controllo di palla, lo ha puntato nell'uno contro uno, ha spostato la palla e poi l'ha messa nell'angolino alto dove Gollini assolutamente non poteva farci nulla. Non si è neanche mosso Gollini, non ha fatto in tempo a prendere la posizione, il pallone che si è...